Carolina Costa Grande Purtroppo abbiamo fatto molta fatica nelle prime partite Invece adesso ci siamo ritrovati piano piano Quindi speriamo per l'Europeo di trovare ancora più ritmo di gioco Adesso è finito il Grand Prix eppure non c'è tempo per riposarsi Subito l'Europeo, cosa ci aspetta? Siamo sempre in competizione Bisogna fare bene le cose, i riposi, l'alimentazione Mantenere un buon umore, un buon spirito di gruppo Perché è quello che ci può portare più in alto possibile